dobbiamo capire dovrete andare a prendere a due strutture a me mi dà la dici 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 allora sai che Pieruccio come guida turistica non è niente male non è niente male va bene allora questo è un problema da risolvere se uno va in un posto bellissimo vale la Puglia poi se c'è una guida aiuta molto e allora possiamo dare un piccolo aiuto a tutti i coloni che ci stanno seguendo da casa se dovete andare in Puglia per piacere portatevi la guida da casa una grande compagnia bravo, bravo e parliamo di sicurezza stradale parliamo di sicurezza stradale perché Gimiglione ha dato un'occhiata ai bus romani guardate, guardate cari messi di strisci oggi vi parleremo degli autobus pubblici della nostra bellissima capitale seguiteci a 30 minuti